5 vittorie, 5 risultati importanti, la Toscata oggi ha tirato 8 volte in porta, solo un gol. La squadra deve vincere sempre, ha solo questo obiettivo, non può fare altrimenti, e questo porta anche un po' di tensione, di frenesia, ma soprattutto un po' di logro a livello mentale. Quando cominci a fare errori tecnici vuol dire che fisicamente ha qualche problema. Non ti ha sorpreso comunque questo blocco difensivo? Ho 7 giocatori del Savoia in 20 metri e poi 3 attaccanti abbandonati a se stessi. Ti ha favorito il gioco a centrocampo da questo punto di vista? Normalmente le gare si vincono lì. No, anzi è quello che mi aspettavo, nel senso che il Savoia gioca così, gioca molto sul possesso palla e poi sulle palle su Bisentini, che mancandogli lui oggi gli è mancato un terminale importante. Però in genere loro fanno questo tipo di calcio e ripeto, oggi gli mancavano giocatori importanti, ma sono un'ottima squadra, con ottimi elementi, lo dimostrano anche i risultati che hanno fatto. Però l'atteggiamento che loro da un po' stanno usando, quello di giocare con la difesa a tre, è figlia anche del fatto che hanno subito qualche gol di più del normale, quindi stanno cercando anche strade diverse. Ma diverse partite hanno cominciato, hanno giocato col 3-4-3, poi magari cambiano atteggiamento in gara. Adesso sei ufficialmente dentro una posizione classifica da play-out, oggi non sei più, nemmeno con la norma dei 10 punti. Adesso diventa interessante il campionato perché con i punti tolti in settimana, con l'Agropoli, ha accorciato la sconfitta del Ragusa. Ci sono delle nuove variabili in questo campionato? Sì, ma non è quello che è l'obiettivo, cioè non è questo il discorso. Il discorso è, noi dobbiamo essere concentrati sul tenere la squadra a questi ritmi per le restanti 10 partite. Da fuori chi commenta, chi guarda la gara, non riesce a capire cosa c'è dietro una squadra che vince 5 partite, che vuole vincere le altre. C'è una tensione, c'è un lavoro, è a livello mentale incredibile. Quindi la nostra preoccupazione in questo momento è solo legata a recuperare fisicamente e mentalmente dopo ogni partita. Perché è una cosa che ti logora, che ti stressa, uno stress che gli altri magari non hanno, spesso gli avversari, o che qualcuno comincia a avere solamente adesso. Noi ce lo portiamo dietro da un po' di tempo. La nostra gara più difficile è quella di cercare sempre di farli scaricare e ripartire. Come sta Pignatta? Questo ancora non lo sappiamo, troppo presto. Era un problema dietro la coscia? Sì, no, al bicipite femorale, al flessore. L'uscita di Pignatta, l'ultima domanda, poi ti lascio, ti ha fatto cambiare tatticamente la squadra, in un certo senso, perché giustamente Pignatta era il punto di vertice. E poi Torcivia ha creato l'effetto cartonimato only e bench, no? Zappata e in quel caso ha creato quel gol spettacolarmente bello, proprio di come nasce, non come viene concluso. No, la squadra è cambiata nel senso perché Torcivia è un giocatore che ha la porta in testa e quindi cerca sempre la profondità, mentre Pignatta è più un giocatore da manovra. Quindi abbiamo dovuto cambiare, nel senso abbiamo dovuto allungare un po' più la squadra, cercare più lanci. Questa è una cosa anche che ti allunga, che ti stanca, però quando gioca lui, quando gioca Torcivia, lui ha questa costante di cercare sempre la porta, la profondità e quindi è giusto. E ha i tempi giusti, lo fa sempre bene, quindi è giusto lanciarlo.